Correva l'anno 1984. In Colombia un gruppo di sicari legato all'organizzazione di Pablo Escobar uccide il ministro della giustizia, Rodrigo Lara Bonilla, dando inizio al periodo del narcoterrorismo internazionale. In Italia il presidente del consiglio, Betino Craxi, presenta ad urgenza un decreto legge per permettere alle reti Fininvest di riprendere le trasmissioni dopo che erano state oscurate pochi giorni prima dall'aparitura per aver violato la sentenza della Corte Costituzionale che vietava l'interconnessione televisiva. In Canada muore in un ospedale di Quebec City lo Stuart Gaetan Douglas, considerato il paziente zero dell'epidemia di AIDS del Nord America. In America, mentre un T-800 arriva al futuro per uccidere John Connor, i coniugi Ickman durante un viaggio in macchina cominciano a concepire un'idea che avrebbe per sempre cambiato il gioco di ruolo. Comunque un anno migliore rispetto alle previsioni. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Quest'anno, come sempre, per il video che chiude la stagione del canale, andiamo a parlare della storia del gioco di ruolo. E questa volta parliamo di storia del gioco di ruolo, nel senso più letterale del termine. Quando l'anno scorso abbiamo parlato della nascita del gioco di ruolo, abbiamo visto come si siano evoluti dal gioco di strategia e abbiamo anche citato Brownstein, quella che è considerata la prima sessione del gioco di ruolo della storia. Se dovete recuperare il video e non ve lo ricordate, ve lo lascio come sempre linkato qua in alto. Per ora, però, in questi video di storia, io mi sono sempre concentrato sulla storia editoriale del gioco di ruolo. Non siamo mai andati a vedere che cosa significasse giocare di ruolo nello specifico, anni prima, nelle epoche passate del gioco di ruolo. Per cui, sostanzialmente, anche parlando con la gente, ho avuto la netta impressione che la gente dia per scontato che il gioco di ruolo è sempre stato quello che noi conosciamo adesso. Sostanzialmente che i ragazzini di Stranger Things nel loro scantinato abbiano un'esperienza al tavolo sostanzialmente identica a quella che avete voi quando il sabato sera giocate con i vostri amici. In realtà, però, non è così. Anzi, all'inizio la componente wargamistica nel gioco di ruolo era molto più preponderante e molte cose che noi adesso diamo per scontate, se non fondamentali nel gioco di ruolo, non erano minimamente prese in considerazione. Possiamo dire che a quel punto della storia del gioco di ruolo, la storia non era ancora arrivata nel gioco di ruolo. Ovviamente non è che negli anni 70 i giocatori di ruolo giocassero a scacchi. Le premesse narrative ci sono sempre state, sono quello che distingue il gioco di ruolo dallo wargame. Il focus del gioco, però, era diverso. L'idea di raccontare le avventure eroiche dei personaggi non era affatto quello che la gente cercava di fare al tavolo. L'atteggiamento generale era più simile a quello che noi utilizzeremmo se giocassimo a un broad game. Pensate a una partita a Aeroquest. C'è un gruppo di personaggi, questi personaggi collaborano assieme per un obiettivo, ma lo scopo del gioco non è narrare le eroiche imprese di chi vi partecipa. Lo scopo del gioco è arrivare a pulire la plancia da tutti i mostri. Tutta la componente narrativa avveniva a posteriori. Una volta finita la sessione di gioco, a quel punto si poteva raccontare la storia. Questa sera abbiamo ucciso cinque goblin, sfondato una porta, ma poi il guerriero è morto perché è stato schiacciato da una trappola. E il compito del master era non solo quello di fare da arbitro e da referente per le regole, ma quello di fungere da antagonista del gioco vero e proprio, cercando di presentare ai giocatori sempre scontri più difficili e brutali in modo da mantenere il gioco emozionante per tutti. E' proprio in quel periodo che vennero sviluppate alcune delle tecniche di masteraggio più antiche che abbiamo e che vengono utilizzate ancora oggi, come l'X-Crawl e il Mega Dungeon. Il focus del gioco era sull'esplorazione degli ambienti. Il primo modulo d'avventura mai pubblicato per Dungeons & Dragons, Palas of the Vampire Queen, è semplicemente un Mega Dungeon di cinque livelli in cui bisogna arrivare in fondo e uccidere la Vampire Queen. E anche il successivo Temple of the Frog, che era fondamentalmente l'avventura, ad esempio, dell'Expert Set, era un altro Mega Dungeon in cui unico elemento narrativo è che i giocatori tecnicamente erano lì per salvare una nobildonna rapita che era da qualche parte all'interno del labirinto. La mortalità in combattimento era molto alta, a dei livelli che per un giocatore di ruolo moderno probabilmente non sarebbe neanche accettabile, ma lo scopo del gioco era proprio quello di riuscire ad arrivare vivi in fondo all'avventura. Non c'era il concetto di eroi che sconfiggono i mostri, per dirlo molto chiaramente, all'epoca i punti esperienza non venivano guadagnati in base ai mostri uccisi, ma in base alla quantità di tesoro recuperato, i mostri, se è possibile, si cercava di evitarli. Con l'inizio degli anni 80, però, l'esperienza di gioco cominciò a spostarsi gradualmente sempre più verso i canoni di quella che è considerata la narrazione tradizionale. Il primo esempio probabilmente lo possiamo vedere con i moduli d'avventura G1, Steeding of the Hill Giant Kiff, G2, Glacier Rift of the Frost Giant Jarl e G3, All of the Fire Giant King, che vengono accorpati insieme in quello che all'epoca veniva definito supermodulo, quello che noi oggi chiameremmo un Adventure Path. Singolarmente i tre moduli non sono altro che un Dungeon Crawl in cui i giocatori devono entrare nel dungeon, ripulirlo e prendere il tesoro. Ma comincia a essere presente un accenno di trama. I giocatori non sono dei banali tombaroli itineranti, sono degli avventurieri che sono stati esplicitamente assunti dagli abitanti del villaggio proprio per andare a ripulire il dungeon dei giganti, quindi diciamo che hanno una motivazione per essere lì e fare quello che fanno. E in più i tre moduli sono legati tra di loro da un filo conduttore che partendo dall'inizio del primo fino ad arrivare alla fine dell'ultimo effettivamente da quello che è un abbozzo di trama. Diciamo che singolarmente le storie non sono altro che dei dungeon che i giocatori devono esplorare per sconfiggere i mostri e arraffare i tesori, però cominciano a emergere i primi elementi narrativi. I giocatori non sono semplicemente una banda di tombaroli itineranti, sono stati ingaggiati dagli abitanti di un villaggio e vengono pagati proprio per ripulire i dungeon dai mostri, quindi hanno una loro motivazione e il gruppo ha un suo retroscena quando inizia il primo dungeon. In più i tre dungeon sono collegati tra di loro da un unico arco narrativo molto abbozzato ma che comunque crea un nesso logico tra l'inizio del primo modulo e la fine dell'ultimo creando una vera e propria trama rudimentale. Con il passare del tempo l'importanza della storia all'interno del gioco si fece sempre più importante e sempre più richiesta dai giocatori. Se seguiamo la storia della serie G vediamo che proseguendo con le uscite la cosa diventa sempre più pesante, appare il primo vero e proprio elemento narrativo concreto, il più basilare di tutti, il colpo di scena. La serie infatti continua con i moduli della serie D. D1, Descent in the Depths of the Earth, D2, Shrine of the Quatoa e D3, Vault of the Draw, in cui si scoprirà proprio che dietro le azioni dei giganti in realtà c'è una macchinazione degli elfi oscuri e la storia proseguirà l'ultimo modulo dell'86, Queen of the Spider, porterà gli avventurieri fino ai piani esterni. In questo modo la serie forma fondamentalmente il ciclo completo degli eroi di D&D come lo conosciamo anche oggi che partendo da banda male in arnese prosegue lungo tutta una serie di imprese fino ad arrivare a combattere le creature planari direttamente nei piani esterni. Era presente un filologio che collegava tutto questo però in realtà il focus del gioco continuavano a essere il dungeon e la trama che collegava logicamente tutto ogni modulo uno con l'altro era semplicemente un sovrappiù in realtà non indispensabile per il gioco. Nel frattempo però cominciarono a uscire anche altri giochi di ruolo a togliere fette di mercato ad Angellons and Dragon. Nel 1981 per esempio uscì la prima edizione di The Call of Tulu. The Call of Tulu spostava il focus narrativo dal fantasy action adventure a un genere horror noir investigativo che per sua natura rendeva molto più importante la storia della narrazione rispetto agli elementi di board game durante le sessioni. Il fatto però è che questi altri giochi presero una fetta marginale del mercato già allora la stragrande maggioranza del gioco di ruolo era rappresentata proprio da D&D. Anche per D&D però le cose stavano per cambiare e il fulcro del cambiamento avvenne nel 1984 quando uscì il primo modulo della serie DL DL1 Dragon of the Spare che molto probabilmente conoscete semplicemente con il nome di Dragonlance. Tracing e Laura Hickman sono già di per loro una coppia che sembra uscita da un romanzo e per dirne semplicemente una sono gli autori originali di Ravenloft ma questa è un'altra storia. Per quello che ci interessa di loro in questo video è che furono i primi ad avere l'idea di creare una serie di moduli che contenessero una storia vera e propria non un abbozzo di trama ma una storia narrativamente complessa come quelle che si sarebbero potute vedere in un film o in un romanzo. Quando proposero questa idea alla TSR piacque molto è quella che loro avevano pensato come l'idea per un singolo modulo una singola avventura e in realtà venne accresciuta la TSR fece confluire anche altri artisti sotto l'ombrello di quello che fu chiamato progetto Overlord. Tra tutte le persone coinvolte ricordiamo Jeff Grubb che tra le varie è l'autore originale dei Forgotten Reams. L'idea per la serie passò da un modulo a una trilogia di moduli per poi passare a due trilogie di moduli per diventare alla fine un'intera collana di 16 moduli che finì di essere pubblicata nel 1988. Per i giocatori di ruolo dell'epoca quello fu un evento focale che rivoluzionò completamente il modo di concepire il gioco di ruolo. Da quel momento in avanti divenne non solo perfettamente normale ma anche auspicabile che le quest avessero una trama molto serrata, che i giocatori fossero gli eroi della storia e che il gioco diventasse un modo per narrare le loro epiche imprese che partendo da banali contanili diventassero eroi planetari. Il fatto che diventassero anche molto ricchi facendo questo era semplicemente un effetto secondario dell'essere eroi invincibili e non il principale motore delle motivazioni del gioco. In pratica col passare del tempo il gioco di ruolo divenne sempre più simile a quello che per noi è il modo normale di giocare di ruolo o per essere più precisi quello che viene chiamato il gioco di ruolo tradizionale. La cosa fu formalmente ufficializzata dalla TSR stessa quando nel 1989 uscì l'Advanced Dungeons and Dragons la Dungeons and Dragons seconda edizione e nel manuale del master questo era proprio il metodo di masteraggio che veniva spiegato per creare le quest da portare al tavolo ai giocatori. Questo però non vuol dire che il cambiamento fu immediatamente accettato a tutti né che fu universalmente ritenuto un passo avanti nel gioco di ruolo. Una parte dei giocatori riteneva che focalizzare il gioco sul raccontare una storia più che sul risolvere i problemi e situazioni degli incontri portasse a snaturare il gioco. Quei giocatori non erano interessati a vivere dentro un romanzo interattivo erano interessati a superare delle sfide con i loro personaggi. Se il master cominciava ad andarci pesante con la narrazione questo portava a tutta una serie di problemi in cascata tra cui il primo è che per raccontare una buona storia il master ha bisogno dei suoi protagonisti che sono i personaggi e quindi il master è implicitamente incoraggiato a non far morire i personaggi. Da quello zoccolo duro di giocatori che rimasero fedeli al modo originale di giocare il gioco di ruolo ebbe poi origine tutta una serie di correnti che confluirono in un'unica macro corrente artistica all'interno del del masteraggio all'interno della narrazione del gioco di ruolo che è il movimento osr l'old school renaissance ma questa è un'altra storia diciamo che per questo video la finiamo qua e con questo chiudiamo anche la terza stagione del canale non mi aspettavo il canale andasse avanti così tanto grazie a tutti quelli che hanno seguito io ad agosto sono in ferie però continuerò comunque la pubblicazione con i video sul modellismo che un'altra delle arti originali del gioco di ruolo che adesso sta passando in secondo piano come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le prossime uscite io sono il master cae e noi ci rivediamo a settembre